che dire? qualche fortunato di troppo? beh sì, però credo che è domenica. chi è che non sta bene per fare un po' di tutto? ma c'è un po' che ha cercato, la scaglia ha ancora recuperato, la paola ha ancora un problemino, il bocchio ha disamenato, l'ho preso una botta, ma la genoccia non c'era? no, la genoccia non c'era perché dovevano il ginocchio, in modo che come sta? sta bene, sta bene. dubbi sull'undici verso la regina? dubbi pochi, a di là di chi giocherà, insomma, dovremmo fare una prestazione diversa sicuramente, ci proveremo, sennò non solo probabilmente per questa partita, una questione di testa, di grande tensione, insomma. ci sono tanti fattori che fanno presaggere che non sarà una partita facile, insomma. giocatori nuovi, il mio ritorno, la voglia di tutti di conquistare i figli col pubblico, che perlomeno avevo spiegato ai ragazzi che ne andiamo a ascoltare i miei giochi, quindi ci sono tante cose da fare, non sono semplici, insomma. e poi finalmente torna in fiore, se ripeti. è uno dei motivi di interesse della partita, lo sai? no, beh, non so se è un motivo di interesse, è un motivo di interesse che noi abbiamo uscito i punti e quindi questo è il motivo più importante. e l'altro motivo importante è quello di riportare il pubblico da nostra parte, insomma. abbiamo, sono sicuro che abbiamo uscito di questo, bisogna ritornare a quel feeling che c'era prima e per farlo dobbiamo, insomma, muovere qualcosa di nuovo. i nuovi partireanno tutti a due minuti? ma non tutti sicuramente, insomma. lo valuteremo in buone situazioni, però sono tutti, sono tutti pronti per giocare, insomma. se li abbiamo presi, li abbiamo presi anche per giocare. che molti giorni e un mese sono stati questi? il lavoro adesso, con il mercato? forse quando il campionato si ferma durante il mercato è una bella proposta questo. sì, anche se poi, come sempre, io sono trent'anni che sono nel calcio, ma, per esempio, il mercato si decide negli ultimi 5-6 giorni. quindi... quindi ci sarà qualcosa? sì. ma sicuramente ci sarà qualcosa, e quindi, io oggi ho parlato da tutti, poi, diciamo, oggi l'importante solo che sarebbe a partire domani, poi dopo, ai miliardi di più possiamo essere in pochi o meno, cioè una partita che va giocata sotto altri aspetti. per cui il mercato poi darà dopo, insomma. dopo di noi sicura vai su interesse, vediamo oggi ci sono gli interessi della casa. praticamente ne hai 18 puntati quasi. sì. o se... sì, sono 19, 19, con qualche attaccia grande, insomma. perché lì eravate 16, lo scusate da chiedere. sì, sì, sì. forse dobbiamo un po' anche cambiare il nostro modo di essere, di tenere sempre... di tenere sempre l'autore di altri. poi magari mi sbaglio, però vorrei che magari la sbaglia qualcuno deve essere otto anche noi, insomma. non so che la situazione non è brutta, è difficile, però è sempre una partita di calcio che bisogna giocarsi, insomma. e non le faccio un po' di paure, e già cazzo. certo che i dati, i numeri, non sono a nostro favore, però dobbiamo sicuramente invertire questo. poi la regina ha preso il giocatore importante, ne ha perso qualcuno importante, e quindi è sempre una buona squadra. so che non essendoci ancora nel secondo della partita è un po' difficile fare questo ragionamento, però che confronto hanno dato il gruppo dei nuovi alberto ma in questi venti giorni intanto hanno dato un grande entusiasmo, un grande voglia di fare, sanno tutti che devono cercare di fare qualcosa di difficile, quindi hanno grande attivazione. e mi auguro di essere occupati sul campo. attivazione, alcune esperienze, anche a base è uno che guida la difesa, fa una volta, quindi è un giocatore che non è servito. tanto guardate lo preferisci terzi o centrale? io lo preferisco centrale, però può giocare anche se la destra non è un problema questo loro terreno. giocatore giocatore che ti servono ancora attaccato? ma devo parlare di mercato? non è che 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 invece volevo chiederti ecco ci saranno ma si dicevi prima come si si lo faccio ok partite non è che 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 facciamo il cazzo mi parecchè la loro Cosa vincere o sì o sì domani? Cosa vincere o sì o sì? Sì, bisogna fare di tutto per vincere, però non vorrei poi che partire. La pressione nel calcio ci deve essere, poi se uno non lette la pressione, lo faremmo altro lavoro, però non vorrei che una sconfitta o un parecchio, nel calcio nella vita si può sempre stare, cioè siamo ripartiti e vogliamo fare, vogliamo cambiare, provare a cambiare, quindi non è facile, è chiaro che domani per noi è fondamentale fare il risultato, quindi è inutile nasconderti, è la verità, però dito solo andiamoci un altro meno tranquillo, giocheremo per vincere, chiaro. La dottina non ho mai sentito però un allenatore che dice che abbiamo un certo, no? nel senso. No, 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 nasconderti c'è come impostazione alle tappi, avremmo 4.2, due gradi, due punti, quindi dovremmo... Chiari. Senti, invece, la pressione dei nostri mesi che cosa è cambiata? Vista da fuori attivate lo lavoro. ma sono cambiate tante cose però non credo è un discorso lungo non credo che sia che sia importante c'è un'idea spesso di trovare in tutti i modi possibile e non possibile per cercare di far bene chiaro le idee ci sono quindi quando ci sono le idee si può cercare di fare qualcosa poi dopo vedremo quei giocatori che ci sono o quelli che sono sicuri che verranno di cercare di fare il massimo